Buonasera signori, intervista migliore in campo Angelo Cinquegrana del Deportivo La Corogna partita appena terminata contro le Civette, aggiorniamo un po' il punteggio 5 a 1 per noi 5 a 1, Angelo, complimenti per l'ennesima volta sei il migliore in campo Com'è stata la partita? È stata una partita sempre tesa contro le Civette sono forse al nostro livello come provocatori cioè nonostante noi abbiamo Diego Carduna, loro ci mettono proprio d'impegno Cioè che non si tengono niente? No, 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 abbiamo spiegato più volte i batti vecchi Vabbè parliamo dell'incontro Sì abbiamo fatto un belissimo gol di Diego Carduna Sì, sì, Diego Cidalizia Io ho fatto una doppietta, poi ho segnato Diego e un altro bel gol di tacco del nostro nuovo giocatore Cargiulo Senti, chi vuoi dedicare questa nomina? Ma penso, la dedico sempre a quei quattro Al panettiere A quei quattro che mi seguono ogni volta a quest'ora per giocare E al panettiere in particolare, ormai è un fratello quindi la dedico soprattutto a lui Complimenti Angelo, ci vediamo la prossima volta Ciao ciao